Se te la dico un po' più brutto, è un vizio della sinistra pensare che non battiamo Berlusconi perché c'è qualcuno nel nostro campo che tradisce e non fa la sua parola. Questa è una cagata. Dovete convincere che la gente alla propria parte la fa tutta. Come la fai tu la faccio anch'io. E non accetto che tu pensi che io la faccio di meno di te. No, 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 perché è un violante che fa fare in liberazione e non c'è. Il problema è che bisogna mettersi d'accordo una volta per tutti. Allora, se tu negli anni... Io credo che in questi momenti giunti molti... Perché con Fassino ve la prendete? Fassino tutti i giorni sta in televisione e non avverte mai il Tg1, cioè i cittadini che guardano il Tg1, che sono cittadini italiani, che Berlusconi non può dire qualcosa contro i magistrati perché lui ha corrotto i magistrati. C'è una sentenza in cui lui si è addirittura fatto la prescrizione da solo e si è tolto la condanna. Queste cose sono il problema. Abbiamo fatto questa polemica e lui dice che... Che Fassino non lo dice abbastanza? Dice abbastanza, dice no, che lui si batte e che non serve a niente dire questa cosa. La politica non è solamente avere i cento parlamentari in meno, ma è dire le cose agli italiani. Riproverate al PD di non fare abbastanza? Noi non ce l'abbiamo con nessuno. Ma questo lo rimproverano tutti al PD, lo rimproverano tutti. I politici oggi devono ricominciare a ritrovare il rapporto con le persone perché quel signore lì nemmeno lo guardava negli occhi. Ha cominciato a dire ma noi siamo meno di cento persone, loro hanno cento deputati di più, che vuol dire questo? Che non si può combattere come facevano una volta per i politici. Perché adesso loro stanno perdendo così tanti voti? Perché io che ho 26 anni non me la sento più di andare a votare adesso? Perché? Perché? Eppure io vorrei andare a votare perché io questa qua ce l'ho qua dentro. Perché? Loro devono ritornare a parlare con le persone, no ad andarsene dicendo ah ci abbiamo cento deputati in meno. Domandatevelo perché ci avete cento deputati in meno, perché Berlusconi continua a vincere, perché in televisione loro non la sfruttano la televisione. Meno salotti su Rai 1? Ah cavolo sì! Anche in televisione devono dire quello che noi vogliamo che dicano, invece purtroppo hanno perso i contatti con la realtà. Loro pensano che stando qui in mezzo alla gente e facendo soltanto la presenza, loro possono risolvere la situazione. No, non è così. Loro devono capirci, devono portare avanti quello che noi chiediamo, cosa che non hanno fatto fino adesso. Noi abbiamo combattuto al tempo dei girotondi, abbiamo offerto loro la vittoria su un piatto d'argento. Non hanno saputo approfittare di questo. E ora noi vogliamo, pretendiamo, noi non vogliamo più dare delega in bianco. Quindi è importante che tutti quanti noi ci uniamo per combattere e poi loro se vogliono ci seguano. C'è anche un'altra cosa, che la gente quando è assetata e sta in un deserto, si immagina che la sabbia sia l'acqua e si beve la sabbia. Perché ogni singola persona che apre bocca, adesso è arrivato Di Pietro, lui è l'unico che si vede tutto Di Pietro che politico è. Cavolo, non è Togliatti Di Pietro, non è Di Nicola. Eppure apre bocca e tutti quanti gli vanno dietro e ha preso un sacco di voti alle elezioni. Perché? Perché è l'unico che lo fa, è l'unico che apre bocca. E ti dico che a me non piace Di Pietro. Però è l'unico che lo fa, cavolo. Perché? Perché non ci sta una persona che la gente non aspetta altro, che ci sia un politico che sia veramente di sinistra in questo paese. Perché? Il fatto quotidiano? Do interviste, non mi faccio prendere la voce così. Però il Popolo Rosso l'ha contestato delle agende, ha detto che lei va troppo... Ho discusso con due ragazzi. Ha detto che lei va troppo al Tg1, ai salotti televisivi senza dire affermare che cosa ha fatto Berlusconi. Io non vado ai salotti televisivi, vado delle trasmissioni a cui mi invitano e lì faccio la mia parte di esponente dell'opposizione. Punto e finito. E per quanto riguarda Bruno Vespa? E vado lì a dire la mia. Se non ci vado, non ci va nessuno. Però questo è il Popolo, dice che siete un po' troppo distanti dalla realtà. Sono due ragazze che discutevano con me. Dare la rappresentanza. Sono saliero ai Lampi. Ma non sei il popolo, sei una persona. No, siamo cittadini. E se tu ti arrabbico cittadini è un problema tuo. Hai mandato a quel paese dei cittadini e io sono saliero ai Lampi. Quindi vi avremo più moderazione. Se sei un politico, lascia perdere non è una cosa carina. Vi avremo moderazione, rispetto dei cittadini che stanno con te. E tu hai rispetto per me. Io ti sto dicendo di dire in televisione che Berlusconi corrompe i magistrati. Io l'ho detto. Tu non lo dici. Ci sono le testimonianze. Di chi? Andiamo a vedere il DG1. Non hai mai detto che Berlusconi ha condannato i magistrati. La battaglia con te, Berlusconi, mi aspetto e venga. No, con te, Berlusconi. Dire che ha condotto i magistrati. Dico quello che va detto a seconda della trasmissione di cosa si parla. Noi siamo cittadini e ti possiamo dire di questa cosa perché non lo sanno gli italiani. E tu ascolti e dici la verità che tu non hai mai detto che lui ha condotto i magistrati. Allora io non accetto che tu dica che io non dico la verità. No, invece tu ne sei andata alla piada. Sì, perché non accetto di essere offeso. Ma non era essere offeso. Passino, io sono segretario del Cicco dell'Ampi. Tu domani vai in televisione al DG1 e dici che Berlusconi ha corrotto i magistrati. Non può dire che i magistrati sono corrotti dalla sinistra. Allora, avete scenato tutto questo per poter fare un piccolo teatrino, anziché prendere con Berlusconi per prendere con l'opposizione. Col teatrino di chi? Ma come il teatrino? Non è possibile questo. Ma è mai possibile? Non so chi siete voi. No, è incredibile che un politico faccia così. Cioè dice che noi facciamo le imboscate. Poi dice che il 40% delle persone non vanno più a votare. Ma per forza quando troviamo un politico in questa maniera. Eh? È completamente saccato dalla realtà. Cioè lui non dialoga più. Lui è capace soltanto ad andare a porta a porta. A fare così, a fare un ulteriore servo al potere. E' incredibile questo argolo.